Sul circuito di Austin Leavis Hamilton ha vinto, e ha messo un nuovo importante sigillo nella corsa al titolo mondiale. Ma ad Austin, a margine del Gran Premio di Formula 1, il campione inglese si è divertito anche a guidare una Mercedes con un passeggero molto particolare. Parliamo di Usain Bolt, il campionissimo di atletica leggera e uomo più veloce al mondo. A bordo di una Mercedes GT, insomma, uno degli uomini più veloci al mondo sulle quattro ruote e l'uomo più veloce al mondo a piedi. Alcuni giri del circuito di Austin, accelerate, frenate, sgommate e piroette sull'asfalto con Leavis Hamilton che si diverte al volante con Usain al suo fianco. E per il campione giamaicano è stato divertente e veloce. Veloce. Di più, direi davvero stressante, le parole di Bolt, trattino d'unione. Sì, in macchina ho urlato, una cosa pazzesca. Leavis va a una velocità incredibile.